Una giornata che avrebbe dovuto essere ordinaria e si è trasformata in una tragedia lungo la Statale 18 nei pressi dello svinco dell'ospedale di Cetraro. Marco Casella, un giovane di 33 anni residente a Grisolia, ha perso la vita in un violento incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri. L'incidente stradale ha coinvolto un'auto ed un furgone e si è verificato intorno alle ore 14. Casella, alla guida della sua BMW Nera, si è scontrato frontalmente con un furgone. Il conducente del veicolo pesante è miracolosamente rimasto illeso, ma la violenza dell'impatto ha ridotto il furgone a un ammasso di lamiere, rendendo difficile l'estrazione delle persone coinvolte. Casella, trasportato d'urgenza all'ospedale annunziata di Cosenza in gravi condizioni, non è riuscito a sopravvivere alle ferite riportate nell'incidente. Il giovane viaggiava con un'altra persona, anch'essa residente a Grisolia, ed entrambi sono stati immediatamente assistiti dai vigi del fuoco di Paola, dagli operatori del 118 e dagli agenti della polizia stradale e personale dell'ANAS. L'ambulanza è giunta tempestivamente sul posto, chiamata da alcuni automobilisti presenti nel momento dell'incidente. Gli operatori sanitari hanno prestato le prime cure sul posto, ma data la gravità delle condizioni di Casella, è stato deciso di trasferire i feriti presso il pronto soccorso e l'ospedale Giroiannelli di Cetraro. Dopo ulteriori accertamenti, i sanitari hanno optato per il trasferimento urgente a Cosenza presso l'ospedale annunziata. Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale medico, Marco Casella ha perso la vita. Il conducente del furgone coinvolto nell'incidente, come dicevamo, è rimasto miracolosamente illeso. L'intera comunità di Grisolia è scossa dalla tragica notizia, mentre le autorità stanno indagando per determinare le cause esatte di questo incidente mortale che ha portato via prematuramente una giovane vita.